Pontevecchio e C4, ne promosse sì, ma con due piani per la stagione diametralmente opposti. La gara al Dei Ornari per i Folignati può essere l'occasione per accorciare dalla vetta e dar l'inizio alla marcia che la fiorente campagna acquisti induce ad aspettarsi. Dall'altra parte i pontegiani, che vogliono tradurre in punti i complimenti alle prestazioni fin qui ricevuti. Di complimenti comunque non ne vuol sentire parlare la C4, che al terzo battezza il match con questa triangolazione ampia tra Valori e Giabbecucci. La risposta iniziale della Pontevecchio è un'azione ben manovrata a sinistra. Peccato che Retini non calci con la giusta convinzione. Sono gli ospiti comunque, forti del maggior tasso tecnico, ad imprimere l'impronta al match in questo primissimo avvio. Il tridente mobile, formato da Valori, Giabbecucci e Tempesta, si avvalida gli inserimenti delle mezzalli Lanzi e Fattorini, che formano la linea mediana insieme al centrale Mattia. In difesa giostano Piantoni, Doco, Moracce e Benedetti con pallotta tre pali. E dall'undicesimo è proprio il giovane portiere a combinarla grossa sul cross di tre quattrini. Il Quetanio Toscano è lesto a siglare il vantaggio rosso-verde. Non poteva mettersi meglio la partita per i locali, schierati dal vice Menga in panchina al posto dello squalificato Cardarelli, con Cucchiararo in porta, Cesaroni, Bormioli, Battaglini e Trequartini in difesa, Retini, Toscano, Lorenzini e Silvestri a centrocampo e Vinciarelli e Barboni in avanti. Ai locali la rete trovata induce coraggio, portandoli ad alzare di non poco il baricentro. A conti fatti però a metà tempo a prevalere il nervosismo, con l'arbitro Salvatori di Macerata costretto a catechizzare i capitani Fattorini e Battaglini. Quando si riprende a giocare, Benedetti sfonda sulla sinistra, ma il colpo di testa di Valori non ha né la forza né l'angolazione per impensierire Cucchiararo. Lo stesso deve dirsi riguardo al tentativo di Giabbecucci al quarantesimo. Bravo e stilisticamente apprezzabile era stato comunque l'ex Foligno nel liberarsi di Cesaroni. L'acquazione violento che si abbatte nell'intervallo lascia in forza l'inizio ripresa, che dopo i rituali conciliaboli tra arbitro e capitani riprende con una mezz'ora circa di ritardo ed il doppio cambio dei rossoverdi che sostituiscono Toscano e Barboni con Lucarini e Monacchia che si insiedano nella metà destra della mediana rossoverde, Corretini e Silvestri a formare dunque la coppia in avanti. Ma alla prima occasione la C4 pareggia, merito dell'istinto da gol di Valori che si tuffa sul tiro in porta di un compagno e di testa ingagna Cucchiararo. Capita al dodicesimo, sul destro di Giabbe Cucchi, l'occasione per gli ospiti di un rapido ribaltamento del match, ma la volée del numero 11 risulta imprecisa. Agguerriti dal pari, gli ospiti si riversano in avanti, ma in un campo ai limiti dell'impraticabilità è l'episodio giusto a far girare la gara. Al diciottesimo, Retini in maniera scordinata corpisce il pallone contemporaneamente con piede mano. Per Salvatori l'intervento è punibile e Valori non si fa pregare per la trasformazione dal dischetto. E rimanendo in tema di calci piazzati, Moracci tenta il bolide su punizione da quasi metà campo due minuti più tardi. Cucchiararo alza in corner. In campo però in questa fase ormai c'è solo la C4, minuto 21. Gli ospiti sfondano a sinistra e Giabbe Cucci ha sul destro il pallone del comodo 3-1. Prova a correre a ripari Menga con gli inserimenti di due uomini offensivi, quali sono Beffa e Cascianelli, ma la sensazione è che ormai i buoni siano scappati dal recinto. Anche se nel calcio azzardare certe affermazioni può essere sempre foriero di brutte figure. Minuto 36, Lanzi si mangia la rete del 4-1 dopo un pontaereo di tempesta. E sul capovolgimento di fronte, Retini la riapre trasformando in rete il pennellato traversone di Vinciarelli. La Ponte Vecchio adesso ci crede e dal 42esimo sempre Retini su calcio di punizioni trova un pari che sembrava un miraccio solo una manciata di minuti prima. Finisce 3-3 dunque una partita strana, emozionante dai mille volti. Coriace alla Ponte Vecchio a crederci per la C4. Nella partita di oggi troppe defaianze dietro per gli standard di una squadra costruita per il primato. Stiamo lavorando perché la squadra deve ancora formarsi caratterialmente. ovvio che non ce l'aspettavamo, nel senso che tra il primo e il secondo tempo gli ho dato una grastrigliata ai ragazzi perché soprattutto nonostante avevamo espresso un discreto gioco per un episodio eravamo andati sotto ma quello che mi era dispiaciuto è che c'era tanta confusione e si parlava troppo in campo. Quindi quello che ho chiesto è di rientrare da squadra in silenzio e provare a fare la partita per quello che il campo permetteva. Ovviamente l'abbiamo impostata benissimo probabilmente è successo che sul 3-1 ci siamo sentiti un po' tranquilli poi questo è il calcio gol mangiato, gol subito abbiamo avuto l'occasione del 4-1 non l'abbiamo fatta e il calcio è fatto da episodi ma soprattutto quando si gioca su un campo così quindi bisogna rimboccarsi le maniche abbiamo due partite in cinque giorni che giochiamo mercoledì in Coppa e poi sabato la prossima di campionato lavorare sul fatto che una partita quando sei sul 3-1 va portata a casa. Penso che finalmente portiamo a casa un punto che meritiamo meritiamo forse dalla prima giornata di campionato qualcosa in più e oggi sarebbe stato veramente un peccato non portare a casa niente quindi devo fare comunque i complimenti ai ragazzi a tutto lo staff, al mister che aveva preparato benissimo la partita poi certo secondo tempo il calcio è un'altra cosa è stata una guerra, una battaglia su questo campo in queste condizioni.